buongiorno buongiorno e benvenuti alla diretta del gran premio del giappone le immagini che vedete sui vostri schermi arrivano dal circuito di moteghi dove sta per partire la diciassettesima e penultima gara della moto gp dopo la pioggia di poche ore fa finalmente è spuntato il sereno ma il tempo che ci separa dalla partenza non è sufficiente per far asciugare la pista per questo la gara è stata dichiarata bagnata lasciando ai piloti la scelta della gomma più adatta la gara è stata dichiarata la gara è stata dichiarata la gara è stata dichiarata non e m Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.